Fra tradizione, storia e innovazione, il bilancio di un anno di attività e il 2022 in cifre e progetti. Nei 12 mesi appena conclusi sono state portate avanti sia attività formative rivolte a ragazzi da 14 e 18 anni in obbligo di istruzione per circa 60 allievi, sia delle attività rivolte a ragazzi disoccupati o inoccupati che rientrano nell'avviso skills di Arpal Umbria finalizzato all'inserimento lavorativo e sono state ben 42 gli allievi interessati. Tra le varie attività condotte dalla Bufalini si riscontrano sia corsi di saldatura realizzati in convenzioni con agenzie interinali che hanno occupato 36 allievi, sia corsi formativi rivolte a dipendenti di aziende private con contatto di apprendistato 80 allievi che corsi a pagamento per il conseguimento della qualifica come operatori socio-sanitario, 51 persone, realizzate in collaborazione con il punto formazione. Nell'anno 2022 la Bufalini, in qualità di ente titolare per la presentazione di programmi di intervento nell'ambito dei servizi civili universali, ha accreditato nuove altri enti di accoglienza. L'opportunità del servizio civile ha consentito anche quest'anno a 52 giovani tra i 18 e i 29 anni di iniziare un'esperienza formativa e lavorativa presso un'associazione di promozione sociale e sportiva accreditata. I 52 giovani hanno inoltre partecipato a 42 ore di formazione generale e 72 ore di formazione specifica. Nell'anno formativo 2022 è stato così raggiunto un numero di iscritti tra le varie attività formative realizzate dalla Bufalini pari a 355 unità.